Ciao amici, benvenuti in questo nuovo video. Guardate chi ho qui. È una Slingerland del 1965. Slingerland è un marchio celebre storico americano. In Italia non è molto conosciuto, ma in America negli anni 60 e 70 era sicuramente la batteria più diffusa. Questo marchio è stato sempre legato a doppio filo all'iconico e grandissimo batterista Gene Krupa. Infatti Gene Krupa appare su tutti i cataloghi della Slingerland dagli anni 30 fino agli anni 70. Nell'era dello swing, quindi parliamo degli anni 30 e gli anni 40 del secolo scorso, Slingerland era sicuramente il marchio più prestigioso e anche quello più ambito. Famosissime sono le batterie Slingerland di quel periodo, denominate Radio King. Oggi sono strumenti molto quotati e molto rari da trovare, sono strumenti che hanno fatto la storia della batteria. Attualmente il marchio Slingerland è stato acquisito da DV da qualche anno, ma non ha modelli in produzione. Siamo tutti in attesa che arrivi qualche nuovo modello. Ma andiamo a vedere nel dettaglio questo strumento. Nel catalogo del 1965 questo strumento appare sotto la denominazione di Modern Jazz numero 9N. Questo strumento è nella finitura Silver Sparkle, una delle più classiche, e le misure sono cassa 20x14, tom 12x8, timpano 14x14 e rullante in ottone cromato, modello Genkrupa appunto, 5x14. Questi fusti sono realizzati a tre strati, acero interno, pioppo centrale e mogano esterno, con anelli di rinforzo in acero. Ho voluto testare questa batteria a tre diverse intonazioni, partendo da una tensione bassa, poi una media e infine una acuta. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Nonostante i tamburi siano di piccole dimensioni, con questa accordatura bassa comunque riusciamo ad ottenere un suono credibile, ideale per situazioni pop rock acustiche, indie, come si dice in questo periodo, sicuramente con una sonorità unica e affascinante. Il tamburo rimane sempre con un suono caldo, gradevole e controllato. Grazie a tutti. 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 Con questa accordatura media riusciamo ad ottenere a mio avviso un suono più funk, se vogliamo più vicino alla musica di James Brown di quel periodo. Credo che veramente questo suono sia molto accattivante e può essere utilizzato anche in contesti moderni con sonorità chiaramente particolari. Grazie a tutti. 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 Questa accordatura alta dà a questi tamburi veramente una sonorità spettacolare. Tono chiaro, limpido, nota bella precisa, è un divertimento suonare questi tamburi. La risposta è sempre molto gradevole, molto veloce, veramente perfetta per suonare jazz e dintorni. Bene amici, spero che questa batteria vi sia piaciuta, anche la finitura è spettacolare. Devo dire, devo dire, devo dire, questi strumenti hanno un fascino unico, io invito tutti quanti voi, se avrete la possibilità, a provare uno strumento vintage e a capirne la magia. Io nel frattempo vi saluto, vi saluto, vi ringrazio, invito tutti quanti voi ad iscrivervi sul canale, mi raccomando, vi aspetto anche con commenti e like e noi ci vediamo presto per un nuovo video. Ciao a tutti!